Case Green? Che cosa prevede la direttiva europea? Quando entrerà in vigore? Vediamolo assieme. Approvata finalmente la direttiva Case Green, quella che prevede l'efficientamento energetico degli edifici in tutta Europa. Servirà per abbattere le emissioni di gas clima alteranti e ovviamente a ridurre i costi in bolletta e a fare un vero e proprio risparmio energetico. È stata approvata con 343 voti favorevoli, 216 contrari e 78 astenuti. Adesso c'è la parte di negoziato con gli stati e se verrà recepita entrerà in vigore a partire probabilmente dal 2025. Questa direttiva prevede la ristrutturazione del parco immobiliare in sua gran parte, ricordando che l'Italia potrà avere una esenzione del 22% degli immobili, più tutta una parte di immobili storici saranno esentati. E però entro il 2030 la maggior parte del parco immobiliare italiano dovrà arrivare almeno alla classe energetica E e tre anni più tardi, nel 2033, dovrà riuscire ad arrivare in classe D. Questo significa un ottimo efficientamento per tutti i nostri immobili che andranno ad acquisire valore sul mercato ed ovviamente questo percorso sarà fatto attraverso un grande supporto di incentivi statali e incentivi europei. Ricordiamo inoltre che dal 2028 le nuove case dovranno essere ad emissioni zero sin dalla loro progettazione e costruzione. Le classi energetiche sappiamo tutti cosa più o meno sono, il certificato energetico per le abitazioni è entrato in vigore diversi anni fa, non ricordo esattamente quando in questo momento, però adesso vediamo un attimo come è composto il parco immobiliare. Al momento la certificazione energetica e gli edifici italiani stanno la maggior parte nelle classi G, F ed E. Vedete il grafico sulla sinistra è un po' la situazione attuale, i nostri immobili sono nella maggior parte in queste classi basse, quindi con uno scarso efficientamento energetico, sono sostanzialmente dei grossi colabrodo. Più inseriamo energia e l'energia si disperde tutta, così come i nostri soldi se ne vanno attraverso questo colabrodo enorme. E dato che il prezzo dell'energia tenderà, se non entreremo in una dimensione completamente diversa, ad aumentare l'intervento delle classi energetiche, andrà anche veramente a fare del bene alla nostra bolletta e al nostro budget domestico. Ma torniamo a noi, vedete la scaletta sul lato destro, questa è la situazione in cui dovremmo arrivare, avere un parco immobiliare che non è tutto green in classe A, ma significherà ridimensionare tutti gli edifici che stanno adesso in una classe molto energivora, molto dispendiosa. Quindi è un intervento fattibilissimo che dovremmo raggiungere con grandi incentivi e questo potrà creare veramente una grande opera Italia e creare tantissimo, tantissimo lavoro. E' un business importante per il nostro paese che farà bene alla crisi climatica, farà bene alle tasche dello Stato, farà bene alla creazione di una grossa economia. Quindi insomma è una operazione win-win, come si dice, dove tutti ne trarranno beneficio. La narrazione degli oppositori delle case green in Italia vorrebbero raccontare che l'Italia sarà uno dei paesi più colpiti perché è quello con maggiori proprietari di casa. Così non è, noi siamo al momento sotto la media europea, guardate il grafico sopra, la linea gialla è quella che riporta l'Italia che è sotto la metà del... Quindi insomma siamo praticamente, diciamo così, forse siamo nella media europea dei proprietari di casa, quindi non colpirà più noi rispetto ad altri Stati, anzi ci beneficerà. Ricordiamo che è un intervento che deve servire a creare benessere, ricchezza e soprattutto a contrastare la crisi climatica. L'obiettivo fondamentale è che dobbiamo mantenerlo, arrivare a emissioni zero entro 2050. Questo è un obiettivo fondamentale per il futuro dell'umanità. Un'altra narrazione degli oppositori è quella che l'Italia avrebbe le case più vecchie d'Europa e quindi questo richiederebbe interventi ancora più importanti, eccetera, eccetera. Ed ecco, il grafico sopra riporta chiaramente gli edifici costruiti prima del 69 e vediamo che l'Italia si attesta più o meno in una media europea. Non è lo Stato che ha le case più vecchie, ce l'ha mediamente vecchie prima del 69. Quindi insomma è una narrazione, quella degli oppositori, che ha senso solo se lo valutiamo su un piano di mera speculazione politica. Il progetto Case Green è un progetto ambizioso, è una grande opera Italia alla quale dobbiamo partecipare perché creerà grande ricchezza, efficienterà il nostro patrimonio immobilare. Non saranno costretti tutti a farlo come vedremo, vedremo anche che certi interventi saranno anche potenzialmente obbligatori solamente in caso di vendita o di affitto degli immobili. Grazie per avermi seguito fin qui, se vi fa piacere seguitemi, datemi una mano a continuare. È un gesto che a voi costa poco, ma a me aiuta tantissimo a continuare nella pubblicazione dei miei contenuti. Grazie a tutti.